Dopo aver effettuato l'accesso, devo selezionare Registro elettronico. Successivamente, selezionare una delle tre opzioni disponibili in base alle proprie esigenze. In classe, se si sta usando il registro mentre si sta facendo docenza con una classe. Sostituzione, se si sta sostituendo un collega. Fuori classe, se si sta compilando il registro al di fuori dell'orario di servizio in classe. Infine, selezionare la classe sulla quale si desidera lavorare per inserire presenze, voti, notte. Per ilft cope di servizio del nostro inaperi e il niente selezionare, vi voglio cosa. Altra zostaic leggendo i bambini, a praticamente velle ramar Battle, Modell Grazie a tutti